Nonostante le tante iniziative e tanta cronaca, la violenza sulle donne resta un'emergenza. L'iniziativa di oggi conclude il primo ciclo di incontri svolti con i ragazzi e le ragazze della scuola nell'ambito del progetto denominato La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti, promosso e realizzato dal coordinamento dello SPI CGL. L'incontro è importante perché rappresenta uno dei tentativi di combattere la violenza portando i ragazzi stessi a ragionare su questo terreno in modo che ci sia una forte consapevolezza della necessità di costruire fra i due sessi un rapporto paritario e rispettoso. La questione dell'essere capaci di un rapporto rispettoso delle differenze è fra i giovani fondamentale in quanto non c'è soltanto la necessità di avere un rispetto e una capacità di costruzione di un rapporto nei confronti della differenza fra i sessi ma anche di altre differenze, le differenze di etnia, le differenze di religione, le differenze di età e quindi essere capaci di rispettare tutte le differenze tra cui la differenza fra i sessi è una differenza fondamentale è uno degli aspetti fondamentali per la costruzione di una cittadinanza che serva a una società più libera.